Tra lavoro da casa e didattica a distanza, l'emergenza sanitaria ha stravolto il nostro equilibrio. Il Covid-19 ci ha cambiato la routine e in molti casi ha aumentato gli impegni e lo stress. Se da un lato lo smart working può essere ritenuto utile e funzionale, dall'altro la mancata interazione con i colleghi, la continua reperibilità e le distrazioni per le necessità familiari non aiutano a mantenere la giusta concentrazione. Ma ad aggiungersi a questi problemi c'è anche quello dell'insonnia da non sottovalutare perché può compromettere le normali abitudini di vita causando un senso di malessere generale. Infatti a causa della pandemia si è verificato un aumento dei disturbi del sonno di circa il 40%. Ad affermarlo è Eleonora Iacobelli, responsabile di Bioequilibrium e presidente dell'Eurodap, l'associazione europea disturbi d'attacchi di panico. Sicuramente c'è stato un notevole aumento dei casi regati a problemi del sonno in quest'ultimo anno e la pandemia ha sicuramente inciso in questo poiché ha completamente disequilibrato tutti i nostri ritmi. Tutte le cose che noi facevamo generalmente come uscire, andare al lavoro, mettere la sveglia, si sono un attimino modificate. Si stima che nel nostro paese ci siano circa 12.000 persone che soffrono di insonnia e da una ricerca condotta da Bioequilibrium su quasi 843 persone è emerso che l'84% ritiene che la qualità del proprio sonno incida fortemente sul livello energetico giornaliero. Inoltre il 75% ha riferito di avere difficoltà a rilassarsi e il 63% di dormire meno di 7 ore a notte. Infatti la maggior parte delle persone poi riferisce di avere problemi di concentrazione, di essere molto stanca, di bere più caffè e anche l'attenzione è un problema e quindi è chiaro che il sonno crea tutta una serie di problematiche anche sulla nostra performance. Ci sono delle soluzioni? Che cosa si può fare? Cercare di mantenere i nostri ritmi circadiani più regolari possibile è sicuramente un'ottima idea. però è chiaro che anche cercare di non fare attività fisica troppo vicino alle ore di andare a dormire o cercare di non mangiare cibi o ricchi di grasso o degli eccitanti, evitare la sigaretta prima di andare a dormire potrebbe essere un'ottima idea perché a differenza di ciò che si pensa la nicotina in realtà è un eccitante per cui è chiaro che incide sul nostro ritmo del sonno. Oltre a questi comportamenti virtuosi, spiega la psicoterapeuta, ci sono dei rimedi naturali come ad esempio gli integratori. Invece sui farmaci utilizzati per l'insonnia bisogna fare attenzione. Mediamente, non tutti ovviamente, però mediamente sono degli ipnotici per cui creano grande dipendenza e abbastanza effetti collaterali. Inoltre, se interrotti repentinamente senza l'osservazione di un medico, possono creare l'effetto contrario. Per cui, se prima ci potevano aiutare a dormire, se li interrompiamo di botto, diciamo che possono creare invece insonnia. Comunque è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto? Assolutamente sì, perché non è un problema che va sottovalutato e appunto proprio perché a lungo andare incide su tutta la nostra vita. Perché il sonno non serve per riposare il corpo, almeno non in prima battuta, ma serve per riposare il nostro cervello.